Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale, io sono Stefania e nuovo video acquisti la seconda volta che faccio il video perché mi sono resta conto che non stavo registrando niente quindi troverete alcune cose già aperte e iniziamo da Tiger, questa è la nuova busta da Tiger ho comprato questo calendario, calendario agenda è particolare perché ha questi quadratini che si possono scrivere delle note da ricordare, carino e dietro ci sono tutti i mesi con i diversi colori questo l'ho pagato solo 3 euro della nuova collezione non ho preso niente perché c'erano tutte cose con i brillantini oppure cose metallizzate e quello che cercavo io non c'era c'era solo questo che è un quaderno semplice, tutto bianco per fare dei disegni, degli schizzi o per prendere appunti questo qua l'ho pagato 3 euro e c'era solo di questo colore purtroppo poi ho preso queste spillette con unicorni era tutto pieno di unicorni ovunque comunque ho preso queste spillette mi piaceva questa qua quella col colore verde acqua e queste qua l'ho pagate 1 euro poi ho voluto comprare qualcosa per il video smr lo slime perché io ho provato a farlo a casa e non ci sono riuscita era slime, c'è scritto però a me non sembra uno slime questo è il mio primo slime è bello il colore il colore è bellissimo però peccato che non fa rumore vedete? non fa rumore sentite? comunque l'ho preso per il colore perché mi piaceva questo l'ho pagato 2 euro è molto appiccicoso non è che mi fa impazzire l'ho comprato stava qui dentro solo che l'ho dovuto uscire perché non vedevo l'ora di provarlo infatti è ancora nuovo perché devo levare ancora questo e questo è un caricabatteria lungo 3 metri bellissimo così posso ricaricare il cellulare seduta comoda c'erano di diversi colori ovviamente io guardo perché è il mio colore preferito c'è per non solo per iphone ma anche per android questo qua per chi è interessato se lo vuole comprare 6 euro un outport l'outport oh questo è bello grande da fare vedere ho preso solo una felpa questa qua bellissima dentro è piena di peluche praticamente è super super calda ragazza è bellissima mi piace tantissimo questa l'ho pagata solo 20 euro le cose da Alcott sono bellissime è solo che bisogna comprarle subito perché poi se ci vuoi andare l'indomani non trovi più niente adoro questa non so se l'ho detto comunque è 20 euro sono andata da Calzedonia e ho preso queste taglia di calze bellissime sono leggere come si può vedere con questa fantasia e c'è anche al posto del verde il blu io ho preso questa fantasia perché mi ricorda Gucci bellissimo io adoro sono anche sembrano un po' natalizie queste qua le ho pagate 3,95 euro poi ho comprato anche queste che sono della nuova collezione sono particolari che hanno il pompon a me piacciono queste calze un po' particolari sono più pesanti queste le ho pagate 5,95 non vedo l'ora di utilizzarli l'ho comprata bianche perché così li posso abbinare al maglione che ho comprato con la pelliccia che vi ho fatto vedere in un video haul bellissime lasciate un like se vi piacciono le calze con i bonpol ci sono tornata la seconda volta per comprare queste sono dei collant tipo a pua però a posto di pua ha questa fantasia qui con mickey mouse bellissimi sono stupende ragazzi non vedo l'ora di fare le foto e metterle su instagram pagate 9,95 niente raga così sono tutti i miei acquisti lasciate un like se vi piacciono i miei acquisti scusate se non ho ricambiato i like e i commenti nei vostri video è perché non ho internet non so quando caricherò questo video spero presto comunque ringrazio a tutti quelli che si sono iscritti visitate il mio sito SwissDeFi21 questo è tutto ci vediamo al prossimo video ciao